Ciao a tutti e bentornati sul mio Gizzo Flotus. Oggi torniamo sul modern, abbiamo visto che è un argomento che vi piace, un formato che vi piace, quindi stiamo cercando di portare tanti contenuti di questo formato. Prima di iniziare come sempre le solite marchette, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di cercare di supportarci mettendo like, commentando i nostri video, facendoci sapere anche i vostri pareri, perché punto uno siamo molto interessati a quello che pensate dei nostri contenuti, perché ci permettono di portare dei contenuti mirati a ciò che piace a voi, e punto due ci aiuta a far crescere il canale, il vostro supporto, quindi sono sempre cose che per voi costano poco, vi prendono poco tempo, ma che danno un enorme supporto a noi e ci permettono di crescere. Quindi mi raccomando se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Detto ciò partiamo subito con il video. Oggi è un video un po' particolare, vorrei parlare di Zo, un mazzo modern che sicuramente conoscete, ma vorrei affrontarlo non come una deck tech classica, ma un po' come una domanda che mi sono posto, sul quale sia effettivamente la lista migliore di Zo in questo momento. Perché me la sono posta? Perché è il mazzo che io sto giocando in modern attualmente, quindi anche se gioco poco il formato ultimamente è il mazzo che sto giocando. Quindi giustamente anche io mi sono chiesto quale sia la lista migliore da portare in questo momento. Allora io partirei dalla lista classica per poi vedere una lista un po' più esotica che ho trovato e che mi piace molto. Allora la lista classica prevede le solite creaturine, 22 creature, che adesso andiamo a vedere un attimo nel dettaglio, 13 spell e le line binding più le terre. Allora partiamo dall'inizio. Creature. Zo voi sapete benissimo che è un mazzo aggressivo basato sulle creature. Questo dal nome all'archetipo, al mazzo e quindi già solo di definizione dobbiamo giocare tante creature. Tendenzialmente è un aggro, anche se vedremo che in realtà sono degli aggro midrange queste liste, ma comunque tendenzialmente è un mazzo aggressivo che vuole chiudere la partita nei primi turni, sfruttando i danni delle creature per poi chiudere con i botti. Allora riparto creature. Ragavan. Ragavan è una creatura che sembra essere fondamentale, no? È uno dei drop a 1 più forti del modern, forse il drop a 1 più forte del modern. Lo conoscete benissimo, non ve ne sto a parlare. Carta che ci aspettiamo di giocare in questo genere di mazzi sempre e comunque, perché a costo 1 abbiamo un 2-1 che fa un sacco di cose, rampa, esilia carte della cima del mazzo dell'avversario, le possiamo giocare, insomma ce lo devono togliere. Quindi è un paraful mini perfetto, turno 1 ragavan è la partenza che vorremmo sempre. Come altri drop a 1 giochiamo la wild nacket, che è questa creaturina che una volta si giocava tantissimo nel vecchio zoo. È una 1-1 a costo 1 verde, ma che prende più 1-1 se abbiamo una montagna e più 1-1 se abbiamo una pianura. L'idea del mazzo, non l'ho ancora detto ma credo che lo sappiate, è giocare tantissimi colori tramite le fetch e le shock, giocare tutti e 5 i colori nella mana base, in modo tale da sfrittare al meglio la meccanica portante del mazzo che è domain. Questa carta si sposa quindi benissimo con il mazzo, perché avremo una 3-3 a costo 1, quasi sempre. Possiamo fare, ovviamente se facciamo turno 1 sarà solamente, probabilmente sarà solo una 2-2, però da turno 2 in poi diventerà una 3-3, perché avremo sicuramente una montagna e una pianura, una foresta, una montagna e una pianura. Poi abbiamo una new entry, Nishoba Brawler, Nishoba Brawler che è questo 0-3, asterisco 3, Trampo, la posto 2 verde, con domain che è la meccanica portante di questo mazzo, e infatti si chiama Domenzo. Domain che in questo caso dice che prende forza pari al numero di tipi di terra base che controlliamo, quindi se abbiamo 3 tipi di terra base sarà una 3-3, se ne abbiamo 4 sarà una 5-3. L'idea è di avere i 5 colori il prima possibile, quindi questa carta sarà quasi sempre o una 4-3 o una 5-3 Trampo, la costo 2, fortissima, enorme. Poi abbiamo il territorio al cavo, carta fortissima che a me piace tantissimo, l'abbiamo straconsigliata in una miriade di video. A costo 2 abbiamo una creatura che prende più x, cioè più x più x, pare il numero di terra base che controlliamo, quindi se abbiamo tutti e 5 i tipi di terra, sarà una 5-5 enorme e ha due abilità fortissime che sono la prima scarta una carta, se lo fai pesca una carta, fondamentale perché ci permette in late di pulire le terre che abbiamo in mano oppure buttare via le creature che non riescono più a passare, insomma scegliere le carte, fare un po' di value in questo modo, scegliendo le carte, magari mettendoci in mano i botti per chiudere la partita, o all'inizio eventualmente anche scartare perché cerchiamo una carta in particolare o abbiamo bisogno di una terra, cose di questo tipo. E la seconda abilità che comunque non è da sottovalutare è che ci permette di esiliare una carta da un cimitero, meccanica molto forte perché ci permette di aiutarci contro mazzi come Warr e Murted per esempio, togliendo carte dal cimitero che gli darebbero delirio oppure delve, cose di questo tipo, ma in generale è già un 8 per il cimitero main deck, il tutto gratis, cioè a costo 2 abbiamo la 5-5 che fa pure due cose, cioè una roba, il miglior drop a 2 del mazzo in assoluto. Poi abbiamo un Ghast, molto forte, antimalocchio, quando attacca facciamo un 4-4 Angelo, carta storica di Magic, la conoscete sicuramente, General Ferros, 3-1 a costo 3, con antimalocchio dal monocolore, molto forte anche questo perché la maggior parte delle movable modder sono monocolore, quindi tante volte gli avversari faranno una fatica bestiale a levarcelo, e poi abbiamo, quando castiamo una spell multicolore, facciamo un 4-4 Golem Artefatto. Il mazzo è pieno di spell multicolore, quindi faremo una miriade di 4-4, se questo sta giù un paio di turni è veramente il disastro. E poi Shen of Draco, scusate, Shen of Draco, 4-4 a costo 12, che si sconta di 2 per ogni tipo di terra base che controlliamo. Volare e in più dà delle abilità alle altre nostre creature, da Cautela alle creature bianche, antimalocchio alle creature blu, Lifelink alle creature nere, Attacco improvviso, First Strike alle creature rosse e Travolgere alle creature verdi. Quindi a costo 2, perché noi sconteremo tendenzialmente del massimo questa carta, qualche volta la faremo a costo 4, ma la maggior parte delle volte sarà a costo 2, abbiamo una 4-4 Volare che dà abilità a tutte le altre nostre creature. Fortissima anche questa. Poi abbiamo i botti, Lightning Bolt primo fra tutti, a costo 1, Tribal Flames carta importantissima per il mazzo perché a dominio fa X danni per il numero di tipi di terra base. Quindi a costo 2 noi facciamo 5 sberle in faccia al nostro avversario, quasi sempre 5, creatura o giocatore, quindi anche alle creature, non necessariamente all'avversario. Poi abbiamo Dromocos Command che è un po' un coltellino svizzero, Stubborn Denial, carta molto forte perché ci permette di counterare un... se abbiamo una creatura con costo 4 o scusate con forza 4 o superiore ci permette di counterare una magia non creatura. Se invece non ce l'abbiamo l'avversario potrà pagare 1. Quindi l'idea è di farla o senza Ferocious se l'avversario non amana, ma l'ideale sarebbe avere una creatura grossa come Shinov Draco, Kavu, il Brawler e quindi per niente diventa un negate a costo 1, fortissimo. Poi le line binding aggiunta abbastanza recente, Flash, domain che ce la sconta di 1 per ogni tipo di terra base, quindi anche qua l'idea di pagarla sempre 2 mana, 1 mana, comunque molto poco, esiliamo un permanente non terra fin quando non lascia il campo di battaglia. Quindi facciamo Oblivion Ring a Flash con costo 1-2, costo basso tendenzialmente. E poi le terre che sono tutte Fetch e Shock salvo le due terre base, la pianura e la foresta, molto molto lineare. La side non mi soffermo perché giocando 5 colori potete giocare veramente la qualunque, cioè è un pentacolor, potete giocare a qualsiasi carta di side a seconda del meta. Segnalo solo Giganta che è un po' gratis in questo mazzo, riusciamo a soddisfare la condizione del companion facilmente perché non abbiamo costi doppi nel mazzo e quindi è niente, un 5-5 costo 5 che sta lì e ci può anche aiutare a fare 5 mana in qualche situazione particolare. Allora, la lista mi piace moltissimo, questa lista è una lista aggressiva proprio al 100% che punta a chiudere veramente in fretta, però ha secondo me delle incoerenze. Allora, premetto che la lista è fortissima ed è giocabilissima però secondo me in una build così aggressiva giocare carte come Stubborn Denial come anche le line binding in certe situazioni non è detto che paghi. Ci saranno delle situazioni in cui paga tantissimo perché noi abbiamo il 5-5 giù Stubborn Denial in mano l'oppo ci fa removal Stubborn Denial la counteriamo ti meno di cavu e in quelle situazioni lì sarà sempre comunque fortissimo. Però ci saranno anche delle situazioni in cui questa cosa non succederà. Per esempio andiamo a top deck e ci peschiamo lo Stubborn Denial o peschiamo la removal quando vogliamo un botto. E questo potrebbe essere un problema non è detto che sia una pescata forte. Detto ciò se volete giocare un mazzo aggressivo è sicuramente una scelta intelligente in questo momento. Io personalmente se devo giocare un mazzo aggro preferisco comunque Barna. Cioè se devo giocare un mazzo aggressivo che punto a chiudere nei primi turni mi piace questo mazzo ma non capisco il senso di non giocare Barna a quel punto per quanto mi riguarda. Poi ripeto la lista è forte è giocabilissima e capisco anche il senso di giocarla perché avete carte fortissime avete accesso Ragavan le line binding che sono ormai delle sample del formato a tutti gli effetti. La seconda lista invece è quella un po' più spicy secondo me ed è anche la lista che sto giocando io e per questo che ho deciso di fare questo video. Ho visto che in data 10 dicembre al Grand Open Qualifier di Barcellona ha fatto sesto posto con 11-3-1 questa lista qua by Eric Alledan non so se scusate by Eric Alledan ha fatto top con questa lista 11-3-1 è un ottimo risultato Qual è la differenza rispetto alla lista precedente che è una versione midrange non è un agro puro è un agro midrange potremmo dire le differenze principali allora territorio al cavo c'era e rimane sempre lui Shinov Draco stessa cosa General Ferrus da una copia sale a tre copie e Geist da una copia sale a due copie quindi ci sono più drop a tre rispetto a prima la differenza principale è questa qua i cascanti gioca Shedless Agent e Bloodbraid Elf quindi Agent che casca con costo minore di tre e Elfa che è una 3-2 rapida che casca con costo minore di quattro qual è la cosa figa di questa lista che noi possiamo fare sempre delle cascate fortissime cioè non abbiamo veramente sfighe giochiamo solo creature forti botti quindi quattro line bot quattro eliche quattro tribal flames dritti senza pensarci e quattro le line binding che non possono essere cascate quindi nel momento in cui noi facciamo Shedless Agent siamo sicuri di tirare dentro o cavo oppure un botto è una giocata molto forte molto aggressiva fare pago tre 2-2 più un botto oppure un altro pezzo non ne parlo neanche se facciamo Elfa Elfa tira veramente giù il mondo a volte faremo delle cose l'ho provato questo mazzo a volte fai cose come Elfa più Agente più Cavu o Elfa più Agente più Elika che sono delle giocate incredibili cioè nei mazzi con controllo mazzi del genere midrange fargli tre pezzi in un turno cioè poveretti si mettono le mani nei capelli veramente potete giocare più copie di Ferrus e Geist Ferrus in questo mazzo diventa veramente qualcosa di incredibile perché con anche i cascanti rischiate veramente di fare turno tre Ferrus turno quattro Elfa casco faccio 2-4-4 l'Elfa più un altro pezzo oppure un botto cioè fate veramente un board allucinante in brevissimo tempo le line binding che sono vabbè la solita removal molto comoda le terre sono le stesse la side è la stessa quello che cambia è letteralmente il tipo di approccio quindi qua abbiamo un approccio più aggressivo senza i cascanti che punta a chiudere il game nei primi turni qua abbiamo un approccio più più midrange potremmo dire più value che cerca di sfruttare di più le meccaniche di cascade e di rockerick per per fare più value fare più pezzi nello stesso turno allora qual è la lista migliore a mio parere o quantomeno per mio gusto questa sembra una lista più solida l'idea di questo di questo mazzo qua è che sì è vero che è più aggressivo è vero che comunque i botti li giochi però è anche vero che potrebbe capitare che noi faremo turno 1 ragavan bene bolt turno 2 cavu removal e già questi tipi di turni così sono molto forti contro questo mazzo qua perché non abbiamo un piano midrange così forte quindi se ci riescono a portare in mid potrebbe essere un problema la seconda lista invece è tutto il contrario non fa delle partenze strappo quindi il turno 1 sarà quasi sempre una terra tappata oppure un bolt nulla di più però farà un turno 2 cavu turno 3 ferrus turno 4 agente o cascante quindi ha diciamo perde di aggressività per guadagnare in giocate forti in solidità perché dico che secondo me questa lista sta meglio nel meta perché non il meta i mazzi principali del meta sono Emmer Time Murted Murted Regent e poi abbiamo Rakdos Midrange e tutta un'altra serie di mazzi però diciamo prendiamo in considerazione questi primi tre mazzi contro Murted più o meno mi sembra che entrambe le liste siano più o meno equivalenti dobbiamo togliere il Murted e per il resto dobbiamo cercare di non far passare il suo Ragavan e cercare di aggredirlo quindi più o meno la vedo diciamo un 50-50 se la giocano più o meno uguali contro Murted contro Rakdos Midrange mi sembra che sia meglio la seconda versione perché fa molto più velu rispetto alla prima qua se loro ci stanno dietro di removal non c'è scampo nella seconda versione invece nel momento in cui riusciamo ad appoggiare un Rockery con Ghast ne giochiamo ben 5 copie cosa che qua non possiamo permetterci di fare loro avranno veramente serie difficoltà a toglierli se non fanno delle giocate forti perché anti-malocchio dal monocolore è veramente difficile da togliere e Ghast anti-malocchio punto quindi sono carte veramente molto forti anche i Cascanti sono molto forti con questo tipo di mazzi mentre per quanto riguarda Emmer Time mi sembra che sia più aggressivo semplicemente se noi cerchiamo di giocare sul piano aggro mi sembra che Emmer Time sia più aggro di noi riesca a fare delle giocate più forti quindi tanto vale provare a giocare con un piano più midrange poi forse sto sbagliando le mie valutazioni e questo è possibile un'altra carta su cui ho dei dubbi è Stubborn Denial Stubborn Denial è una carta fortissima e capisco il senso di giocarla perché ci può counterare la Blood Moon che letteralmente ci uccide se entra una Blood Moon dobbiamo per forza fare le line binding perché sennò siamo morti parlando di main ovviamente post side poi potete saldare quello che volete anche forse on vigor se vi va però di main dobbiamo avere delle soluzioni a parte le line binding non ce ne sono dobbiamo avere la basica più le line binding Stubborn Denial ci permette già di evitare questa cosa permette anche di counterare vari planes walker e carte di questo tipo però secondo me in un meta in cui l'80% delle removal sono degli elementali quindi se ci fanno solitude Stubborn Denial ce la teniamo in mano e rimane lì in mano ma la removal l'hanno fatta comunque Idem Fury e Idem Fury che tra l'altro è un altro dei motivi per cui preferisco la seconda versione questo mazzo se ci fanno un Fury ci portano via Ragavan più Gatta Nishova più Ragavan cioè ci portano via tanti pezzi questo qua no se ce ne portano via uno boh se no basta perché o ci portano via i due cascanti però tendenzialmente sono tutti più grossi quindi se fai Fury non porterai via due pezzi ne porterai via uno solo quindi non lo so questa versione mi sembra leggermente sotto poi probabilmente ripeto mi sbaglio e giocarla aggressiva è la cosa migliore fatemi sapere quello che pensate anche voi di queste due liste queste liste sì queste due liste nei commenti perché sono curiosissimo di vedere anche il vostro punto di vista questo ripeto mio punto di vista sono sicuro che ci sarà qualcuno di voi che ritiene migliore questa prima versione e vi prego di farmelo sapere nei commenti così ne discutiamo apriamo anche una discussione sui vari pensieri che è quello che ci fa piacere e il tipo di ambiente che vorremmo creare all'interno della nostra community con uno scambio di opinioni e di idee fra noi e voi a prescindere da chi faccia il video da chi è solamente un membro della community da chi è un pro player da chi è un neofita tutti sarebbe bello se tutti riuscissimo a discuterne e a parlarne detto ciò con questa premessa vi lascio vi saluto e ci vediamo la prossima volta ciao a tutti